Arriva la pioggia a Spa-Francorchamps per la seconda sessione di qualifiche dell'Euro Formula Open 2017 il secondo round di campionato dopo Estoril in Belgio, clima tipico la pioggia arrivata nel mattino ha costretto tutti i piloti a montare le gomme rain una sessione interrotta nel finale per un incidente occorso al vincitore di gara 1 a Meia Vadianatan pole position andata nelle mani del rookie Nikita Troitski seconda pole in campionato, seconda pole sul bagnato dopo il Portogallo il portecolori di Casa Drivex ha segnato il miglior tempo in 2.36.276 precedendo un altro rookie, il tedesco Jannes Fittie di Casa Fortec Motorsport seconda fila per Meia Vadianatan, vincitore di gara ieri col team Carlin e Matteo Siorio di Casa Campos miglior italiano, l'unico italiano Lodovico Laurini in 14esima posizione con la vettura di RP Motorsport leader di campionato Harrison Scott, solamente sesto a presto a presto